Una giornata come quella organizzata da CLAL, secondo lei, ha portato dei lati positivi rispetto a vari attori della filiera che, come è messo oggi, non sempre riescono ad incontrarsi? Sicuramente è stata un'occasione molto importante, quindi voglio ringraziare Angelo Rossi a nome della Newlet, perché questo tipo di incontri favoriscono sicuramente uno scambio di opinioni, di esperienze e danno sicuramente a noi operatori la possibilità di scambiarci le nostre esperienze lavorative in modo tale da poter migliorare un po' tutti l'efficienza delle nostre aziende. Quello che mi sento di suggerire è un ulteriore passo in avanti nel coinvolgere la grande distribuzione che, come ho sentito da diversi interventi, è sempre un po' il convitato di pietra di queste riunioni e con la quale diventa sempre più difficile dialogare. Un altro punto importante, secondo me, è anche quello di coinvolgere le istituzioni perché meno distorsioni si introducono in questo sistema e più la filiera è efficiente. Per distorsioni intendo, per esempio, uno degli ultimi provvedimenti legislativi in Italia è quello dell'indicazione della materia prima in etichetta che per noi sicuramente comporta un aggravio di costi ed è un elemento distorsivo della filiera. Ecco, quindi in queste occasioni sarebbe opportuno avere tutti gli attori in modo tale da poter confrontare le proprie esigenze e poter eliminare quei fattori che poi, rendendo la filiera meno efficiente, scaricano inevitabilmente sugli attori più deboli questo tipo di inefficienze. Ma etichetta significa anche qualità. Come garantire da questo punto di vista la qualità? La qualità posso garantirvi che viene tutti i giorni testata dal mangime fino alla tavola del consumatore. Noi come industria di trasformazione continuiamo ad investire nella qualità, continuiamo ad investire nei controlli perché sicuramente è il fattore premiante di chi ha la marca e deve difenderla a tutti i costi. Insomma, deve poter garantire al consumatore la genuinità e la bontà del prodotto fino al consumatore finale.